Il Consiglio Provinciale deciderà lunedì prossimo se indire il referendum per chiedere ai piacentini se vogliono continuare a stare in Emilia-Romagna o preferiscono andare in Lombardia. Il Presidente del Consiglio Roberto Pasquali ha convocato l'attesissima seduta per il 24 settembre alle 16. All'ordine del giorno tre punti, tra cui il dibattito sul futuro della provincia di Piacenza alla luce del progetto di riordino, che al momento vedrebbe la nostra amministrazione territoriale accorpata con Parma. Con l'avvicinarsi dell'appuntamento sale la tensione tra le parti politiche. Oggi il Sindaco Dosi ha criticato la scelta dell'amministrazione provinciale, definendo il referendum costoso e potenzialmente inutile. Personalmente mi sono sempre espresso contrario. Ho fatto due conti ieri. Trovo suggestivo, cioè particolare, questa proposta perché viene formulata da un ente che sta per essere superato, accorpato. Sappiamo che è uno strumento particolarmente oneroso. Evidentemente l'ente proponente è anche l'ente che dovrà sostenere i costi di questa consultazione. I tempi di questa consultazione, secondo me, non sono inferiori all'anno e mezzo. Potrebbe darsi che il referendum venga concretamente indetto quando l'amministrazione provinciale ha già interrotto il suo ITE. Gli ha replicato il Presidente della provincia Massimo Trespidi, evitando però qualsiasi polemica. Noi dobbiamo avere consapevolezza della forte necessità di promuovere la nostra identità e di collocarla là dove può essere meglio valorizzata. E credo che dare la parola ai cittadini non sia mai un elemento di debolezza e non sia un'abdicazione della politica, ma sia uno dei compiti della politica. In momenti particolari, difficili e complessi, poter ricevere un aiuto da parte dei cittadini a scegliere e a prendere la decisione migliore. Se io fossi il sindaco della città di Piacenza, mi domanderei in un momento storico di questo tipo, in un passaggio epocale così importante, cosa pensano i miei cittadini. Secondo Via Garibaldi, il costo della consultazione dovrebbe essere di circa 500 mila euro e potenzialmente potrebbe essere accorpata alle elezioni politiche di metà 2013. La questione sta facendo anche molto discutere su Facebook, dove gli esponenti politici locali si scambiano opinioni, anche polemiche.